Ciao, nella lezione precedente abbiamo visto come orchestrare dei sedicesimi a colpi singoli alternati su tutto lo strumento. Quindi abbiamo combinato insieme degli accenti cercando di formare delle frasi o delle melodie possibilmente musicali. Tutto questo è possibile solo quando siamo veramente padroni del controllo degli accenti. In questa lezione vorrei darti alcuni consigli su come studiare e migliorare il controllo degli accenti sui sedicesimi e sulle terzine di ottavi. Andiamo a vedere di che si tratta. Tecnicamente parlando vi sono diversi sistemi per poter eseguire degli accenti. A mio avviso il sistema migliore per poter gestire e controllare lo spostamento degli accenti su tutto il drum set è quello di utilizzare la tecnica Müller. Se non hai familiarità con questa tecnica ti lascio qua nelle schede il link al mio video dove parlo proprio nello specifico di questa tecnica. Ora andiamo a vedere come poter spostare gli accenti sui sedicesimi utilizzando appunto la tecnica Müller. Ora proveremo a suonare dei sedicesimi a colpi singoli alternati accentando la prima nota di ogni quartina utilizzando appunto la tecnica Müller. Partiamo molto lentamente Ora proveremo a spostare l'accento sul secondo colpo, quindi sulla seconda nota di ogni quartina. Dovremmo eseguire quindi l'accento con la nostra mano sinistra. Proviamo. Ora spostiamo l'accento sul terzo colpo, sulla terza nota, quindi di nuovo la nostra mano destra eseguirà l'accento. One e n, two e n, three e n, four e n, one e n, two e n, three e n, four e n. Per finire l'accento sull'ultimo colpo, sull'ultima nota, quindi di nuovo la nostra mano sinistra. Proviamo. Una e n, two e n, three e n, four e n, one e n, three e n, four e n, one e n, two e n, three e n, four e n. Ora proveremo a suonare in sequenza il primo accento, il secondo, il terzo ed il quarto. Ogni accento lo faremo durare per una battuta intera. Ok? Proviamo lentamente. Secondo, terzo, quarto. E, 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 E Proveremo a suonare l'accento sul primo, secondo, terzo e quarto utilizzando il metronomo a 60 bpm. Proviamo. 1 e n, 2 e n, 3 e n, 4 e n, 1 e n, 2 e n, 3 e n, 4. Secondo. 2 e n, 3 e n, 4 e. Terzo. Quarto. 1 e n, 2 e n, 3 e n, 4 e n, terzo. Quarto. Proviamo ora a velocizzare un po' e andiamo a 80 bpm. So, come si deve utilizzare un' parola e un po' e n, 3 e n, 4 e n, 4 e n, 3 e n, 4 e n, 4 e n, 4 e n, 5 e n, 6. Proviamo ad andare a 100 bpm 1, 2, 3, 4 Ora applicheremo lo stesso concetto utilizzando però delle terzine di ottavi Iniziamo con l'accentare il primo dei tre colpi Essendo la terzina dispari avremo un accento di destra e un accento di sinistra Proviamo Proviamo adesso ad accentare il secondo colpo 1 and lead, 2 and lead, 3 and lead, 4 and lead, 1 and lead, 2 and lead, 3 and lead, 4 and lead, 3 and lead, 4 and lead Ora proveremo ad accentare il terzo 1 and lead, 2 and lead, 3 and lead, 4 and lead, 1 and lead, 2 and lead, 3 and lead, 4 and lead Primo, secondo e terzo in sequenza 1, 2, 3, 4. Primo, 2, 3, 4. Secondo, 3, 4. Terzo, primo, secondo, terzo, ora proveremo a suonare lo stesso esercizio a 100 bpm. 1, 2, 3, 4. Ti consiglio di studiare gli esempi che hai appena visto a diverse velocità partendo anche con la mano sinistra. Questo ti permetterà di poter iniziare delle frasi sia con la mano destra che con la mano sinistra senza avere grossi problemi. Successivamente ti consiglio l'acquisto di questo bellissimo e utilissimo libro di Charlie Wilcoxon che si chiama Wristen Finger Stroke Control. Ti lascerò il link sotto in descrizione. Questo libro a mio avviso è molto utile per imparare a controllare gli accenti sui sedicesimi, sulle terzine e poi mischiando insieme sedicesimi e terzine. Nella prossima lezione ti farò vedere come poter prendere alcuni di questi esercizi e svilupparli su tutto il drum set, creando così delle frasi ma anche dei feels che ci possono essere utili mentre stiamo appunto accompagnando un brano. Ci vediamo nella prossima lezione, buono studio, a presto, ciao!